preparati già i sordi precisi pagnoni? no sennò ne diamo quattro pugni in faccia meno di 20 lascia aperto sta venendo lei a chiudere vai scendo siamo cappati vai ragazzi salutate tutti insieme abbiamo preso un pick up rosso adesso si mette le orecchiette su me ma guardi guardi facci ti giocato le orecchiette ben minuccio siamo nel traffico di Chiang Mai abbiamo contrattato un pick up che ci porterà al bazar al night bazar di Chiang Mai volevano 20 bat a testa siamo riusciti a spuntare a 100 tutti e 6 poca roba siamo praticamente fermi incastrati perché c'è un tiro che non riesce a fare manovra ha bloccato praticamente la strada principale di Chiang Mai siamo sempre su quel famoso pick up abbiamo fatto una sosta di 10 minuti per un tiro che bloccava praticamente il nostro pick up è tipo quello che state vedendo adesso sembra che ci siano tanti qui a Chiang Mai forse a questi diceva lui siamo sempre nel pick up nel cuore di Chiang Mai stiamo finando al night bazar di Chiang Mai come buona usanza musica live hard rock Chiang Mai night bazar night bazar come buona usanza come buona usanza come buona usanza общa Restaurante guarda che le monete sono belle queste e un pane un pane tibetane si a questa vuoi chiedere 6 quanto costa? questi occhi Pogli appesi Pogli non solo Pogli non sono bolli Non era la spina È la nostra Pogli non sono bolli 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 Ti hanno chiamato Quattrocentavanti Uo! non sono scogliattoli ecco, li muo partono, muo partono, muo partono e questo è proprio il loro habitat grazie a tutti grazie a tutti